Tu giuri che da me non vuoi nient'altro che sesso? E tu giuri che non vuoi di più da me? Non so come siete voi ragazze. Tic tac tic. Piantala. Che stai facendo? Sto aprendo l'applicazione Bibbia. Hai l'applicazione Bibbia? Certo, sono una brava ragazza. Mano sull'iPad. Aspetta. Perché non lo fanno come si deve? Aspetta. Ecco fatto. Niente storie d'amore. Niente sentimenti. Solo sesso. E comunque vada, restiamo amici. Giuro. 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 Camera da letto. Non va bene il divano, meno compromettente. In camera da letto c'è più luce, dato che siamo solo amici non mi devo sentire insicura del mio corpo. Ma andiamo, tu sei bella. Eccolo vedi, ora ti metti a fare complimenti, da evitare assolutamente. Vai sedere un tantino ma... Adesso ci siamo. Ciao.